Martedì di ripresa per Campobasso e Olimpia Agnonese. Primo giorno di allenamento per scacciare le scorie del derby del Selvapiana. Qualche coda polemica post-match tra le due società. Ieri l'Olimpia Agnonese con un comunicato stampa ha voluto rispondere alle dichiarazioni a caldo del presidente rosoblu Danilo Leone. La società alto molisana tramite nota stampa ha sottolineato la grande sportività di tutto il movimento Granata da sempre. A partire dal pubblico sino alle varie dirigenze che si sono succedute nel corso di questi 11 anni di Serie D. Inoltre si è espressa la massima solidarietà per il tecnico Dimeo nell'episodio del cane per le strumentalizzazioni dell'accaduto. Ieri pomeriggio sul web infatti si è diffusa anche la notizia riportata da Sky Sport in merito all'accaduto. Detto questo nel tardo pomeriggio il bellissimo post distensivo su Facebook della società del Campobasso Calcio. Con la foto del cane chiamato Lupo che metaforicamente ha parlato in prima persona dicendo Il mio avversario non voleva strattonarmi per farmi male. Da domani sarò come sempre all'allenamento. Chiudiamo la polemica. Sono abituato a lottare e non a caso mi chiamano Lupo. Insomma una distensione che fa bene. Il calcio giocato a volte porta delle problematiche fastidiose. Importante ravvedersi e pensare al futuro per una nuova sfida. Già perché da oggi si pensa al prossimo turno di campionato. Praticamente ufficiale l'anticipo per il Campobasso sabato prossimo a Giulianova contro il San Nicolò. Gli abruzzesi infatti non giocano più a Teramo. Il campo di Giulianova domenica è impegnato ed ecco perché l'anticipo richiesto a sabato 17 febbraio. Per l'Olimpia agnionese al Civitelle altra sfida complicata questa volta contro la quarta forza del torneo. L'Avezzano intanto per la rappresentativa di serie di Raduno a Pomezia da oggi a mercoledì. per i 25 giocatori convocati da mister Gentilini con match test in programma contro l'Alba Longa. Tra i convocati il difensore Rocco Labua ed il centrocampista Niccolò Marino dell'Olimpia agnionese. Mentre in attacco è presente anche il colored Augustus Carbo. Ragazzo davvero in una forma strepitosa.